La mostra Scopertine Tipografiche è nata da una mia ricerca come grafico, io in realtà sono più grafico che artista, poi si è sviluppata in questa direzione. È nata da un esercizio di stile, per fare una citazione letteraria, visto il tema. Ho fatto questi esercizi giocando sulle copertine, sulla loro struttura semantica soprattutto, con vari giochi, insomma. Il tutto è molto giocoso, come potete vedere. Da un gioco che era, proponendolo poi alla Biblioteca Gambalunga, la direttrice, che ha accettato molto volentieri di trasformarli in una mostra o forse in un allestimento meglio. Queste copertine da leggere, diciamo, sono diventate, se vogliamo, copertine leggere, giocando anche qui sulla parola. Sono diventate leggere, sono volate un po' in alto, come vedete, appese nel chiostro, o meglio, nella corte della Biblioteca Gambalunga, e materializzandosi, in questo senso, mi hanno dato anche delle possibilità in più, nel senso che si sono create delle situazioni per cui potevo giocare proprio con la materialità dell'oggetto copertina. Sono state stampate in formato manifesto, appese appunto, però qualcuna oltre a essere appesa è stata, ha preso una sua anche forma e disposizione diversa, proprio giocando sulla fisicità di quello che erano diventate, perché erano nate come un gioco digitale fatto al computer. E quindi qualcuna è salita in alto, ad esempio l'insostenibile leggerezza dell'essere, è salita più in alto delle altre, si è elevata, diciamo così. Altre sono cadute giù, come vedrete, altre si sono inclinate, altre si sono messe comode di traverso, come ad esempio gli sdraiati, giustamente, di Michele Serra. Oppure quella che si è inclinata sono i canti pisani di Edra Pound, l'inclinazione è chiaramente un omaggio a Pisa e alle sue famose inclinazioni, diciamo così. Penso questo sia un po' tutto quello che posso dire, vi invito a visitarla e penso divertirvi e anche scoprire quello che si può fare giocando con i segni, con i simboli, cioè decontestualizzando un po' il linguaggio scritto, facendolo diventare ogni tanto forma, ogni tanto facendo delle sottrazioni, degli spostamenti, delle messe in taglio fuori campo, evocando ad esempio dei fuori campo in certi casi che assumono dei significati. Quindi, ripeto, vi invito a visitarla e a divertirvi con le scopertine.